Siamo in diretta dal festival del panuozzo a Gragnano abbiamo con noi Cira direttamente dallo stand Luigi Fornar. Cira buonasera come stai? Ciao salve buonasera tutto bene grazie. Ma che meraviglia io parlavo un attimo con Cira perché insomma il panuozzo ha fatto il miracolo questa sera e lo diciamo a tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando venite qui perché non piove si sta bene non fa caldo quindi campagna tutta la campagna che in questo momento ci sta ascoltando raggiungeteci qui a Gragnano nella terra natia del panuozzo in via quarantola perché qui vicino a me c'è Cira che insomma sede lo stand Luigi Fornar ma Cira ma io mi viene l'acqualina scusate perché ho parlato prima con Cira mi ha detto un po' gli ingredienti del panuozzo di Luigi Fornar quali sono? Allora i nostri ingredienti sono porchetta patata al forno e fior di latte e se preferite anche maionese o ketchup. Ma che meraviglia che meraviglia ecco parliamo un po' di Luigi Fornar credo che insomma è uno dei dei pizzaioli panozzari storici qui di Gragnano. Sì in verità allora Luigi Fornar è proprio il nome di mio nonno e lui il fondatore della pizzeria ed è il primo proprio a Gragnano che ha aperto la pizzeria e quindi sì è una generazione che meraviglia una generazione di fenomeni perché so che insomma si si lavora tantissimo e la particolarità del vostro panuozzo è proprio la tradizione oltre alla passione. Sì è tradizione è vero siamo una famiglia tutti fanno pizze o se non pizze fanno pane. Eh vabbè insomma io che mi sento un po' come dire Peter pane mi fiondo proprio sulla sulla sul pane sul panuozzo insomma che poi parlando anche con il presidente dell'associazione pizza e panuozzo Camillo Arpaia mi ha spiegato che io da ignorante ignoravo che cosa che il l'impasto del panuozzo è diverso da quello della pizza e così anche del pane. Sì. Ok perfetto e allora oggi è il terzo giorno un festival del panuozzo organizzato in maniera anche sui generi perché ci sono anche tante cose itineranti ho visto dei dei ballerini delle delle dei personaggi anche di di film insomma una cosa meravigliosa quest'anno ti piace perché so che sono cioè questa è la venti ventottesima edizione vero? A impastare non so a a infornare. Allora io sono la sorella del titolare. Ah perfetto. E lui quello che come si chiama? Lo salutiamo! Francesco Malafronte. Francesco Malafronte ovunque tu sia sarà infornata. Eh ti dà l'idea di una cosa buonissima. Sì. Veramente. Allora eh come direbbe eh Cira eh forni subito forno subito ci vediamo dopo perché insomma adesso sei un po' impegnata. Vi aspettano infatti. Allora Luigi Furnar eh eh spend numero otto vi aspettiamo in tanti. Ricordiamo un attimo gli ingredienti del panozzo. Porchetta patata al forno e fior di latte. Che meraviglia. Grazie Cira. Grazie a voi un bacio. Grazie Cira. Noi vi aspettiamo in via Quarantola e questa è la musica di Radiobase.